L'intervento si è reso necessario perché le campane che sono dei primi anni dopo la seconda metà dell'Ottocento erano ammalorate e necessitavano di una ristrutturazione completa. Con questa gru sono state calate dalla torre campanaria, caricate sul camion, andranno presso una ditta specializzata nel restauro e dovrebbero ritornare qui sul campanile per il 2 novembre. Quindi assisteremo ad un altro evento storico per il nostro paese perché è la prima volta che le campane sono state tolte dal campanile e col 2 novembre poi ripristineremo il tutto. Grazie.